Ciao a tutti, sono l'astronaut Luca Farmitano e ora sto con l'international space station a 400 km di altitudine a 28,000 km all'ora e ancora con questo computer sono capito di controllare e seguire un piccolo rovere un piccolo robot chiamato K-10 che è un robot reale in California e potrei essere capito di seguire il cammino e controlla mentre performa diversi tassi come portare un'antenne o navigare da un punto all'altro mentre utilizzando la sua camera per mostrare il territorio davanti e vicino quindi credo che questo è un'esperienza molto grande per la robotica perché nel futuro, quando torniamo il nostro planeto e proviamo a andare a nuovi planeti potremmo bisogno di roboti come K-10 per esplorare il planeto prima di farlo per assicurare che possiamo sicuramente mettere il nostro piede a questi nuovi planeti a tutti Grazie a tutti.